Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questa è la risposta diciamo al video contest che è uscito più o meno 8-9 giorni fa Ci ho avuto un po' di impegni quindi non l'ho fatto nella settimana che lo faccio di solito Comunque qui avrete il risultato del video contest e tutta la risposta E' l'ultimo contest FIFA di questa stagione Spero che ce ne saranno altri per la nuova stagione FIFA 18 Detto questo rimanete fino alla fine del video se volete vedere il vincitore Un saluto a tutti e al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti